In Cleos è possibile procedere all'invio di depositi PCT, depositi PAT o notifiche a mezzo PEC. Per creare depositi o notifiche è necessario che sia presente in Cleos una pratica di riferimento in cui la PEC inviata verrà salvata. Nel caso in cui la pratica non sia ancora stata creata, è necessario farlo preliminarmente alla creazione del deposito. Più la pratica è profilata in tutte le sue parti, più i campi del deposito saranno compilati automaticamente. Inoltre, seppur sia possibile inserire nel deposito documenti in locale, è consigliabile che questi vengano prima importati nella pratica di riferimento. Per poter creare un deposito è necessario accedere al modulo generale Processo telematico, sezione Deposito telematico. Cliccare poi su Nuovo deposito, selezionare il fascicolo di riferimento e cliccare su Crea. Selezionare l'ufficio giudiziario, ruolo, rito, campo opzionale e tipo di atto. I tipi di atto sono suddivisi in tre categorie, introduttivi, in corso di causa e dei professionisti. A seconda del tipo di atto scelto, i dati richiesti successivamente variano. A seguito della selezione, cliccare su Prossimo. Nel caso in cui si scelga un tipo di atto introduttivo, è richiesto obbligatoriamente l'inserimento della nota di iscrizione a ruolo. Questa verrà generata automaticamente sulla base dei dati inseriti in fase di creazione del deposito e inserita in versione PDF tra gli allegati. Per esempio, per un deposito di iscrizione a ruolo di un ricorso generico, sono previsti i seguenti set. Selezione dell'oggetto, contributo unificato, i dati in rosso sono obbligatori. Parti. Come indicato in precedenza, i dati sono inseriti in automatico se presenti nella pratica associata. È comunque possibile inserirli o modificarli in questa fase. La linguetta rossa è indice che sono presenti dei dati mancanti nell'anagrafica del soggetto o che il soggetto non è inserito. Per procedere a implementarli, è necessario cliccare sul tasto Modifica o in alternativa, per modificare un'anagrafica, selezionarla e cliccare su Modifica. L'ultimo step del deposito è comune per tutte le tipologie. È necessario selezionare emittente, PEC da cui inviare la busta, dettaglio nell'oggetto del deposito e integrare gli allegati. Cliccando sullo spazio vuoto in corrispondenza dei documenti da inserire obbligatoriamente, segnalati da una linguetta rossa nel nostro esempio Atto principale e Procura all'eliti. È possibile selezionare il documento dal PC o dalla pratica di CLEOS. Dal tasto Allega, con la stessa logica di selezione, è possibile inserire Allegati aggiuntivi. Nel caso in cui venga selezionato un documento Word, è possibile scegliere di allegarlo in PDF convertendolo al momento. Tutti i documenti che riportano l'indicazione in rosso Non firmato sono da firmare obbligatoriamente tramite le funzioni firma digitale o firma remota. Prima di procedere all'invio è possibile ricontrollare gli elementi allegati dal tasto Anteprima. In calce viene indicata la dimensione del deposito. Poiché da disposizioni ministeriali la singola busta non può superare i 30 MB, nel caso in cui la somma della dimensione degli allegati dovesse superare questo limite, CLEOS li suddividerà in più buste in automatico. Questo implicherà la presenza di più dati atto da firmare, file necessari ai controlli automatici di cancelleria. Per ultimare la procedura, cliccare su Crea e inviam. Grazie. Grazie.